Ludovico Girardello è nato a Vittorio Veneto in provincia di Treviso il 5 dicembre 2000. Attore ha debuttato sul grande schermo a soli 13 anni ed è una delle promesse del cinema italiano. Ecco 5 cose che forse non sai su Ludovico Girardello. Ultimo di quattro figli le due sorelle hanno studiato recitazione e il fratello è laureato in storia del cinema. È stato scelto tra 1500 candidati e dopo 5 audizioni per il ruolo di Michele nel film premio Oscar Il ragazzo invisibile di Gabriele Salvatores. Ha paura delle altezze. A teatro è stato Puck in sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare e ha avuto anche una parte in Le donne in parlamento di Aristotele. Ha una grande passione per i manga e per i Marvel Comics, in particolare per Iron Man.